eccoci rieccoci buongiorno non siamo Marco non siamo al Roxy Bar ma ci rivediamo comunque siamo al Bar Sport ben ritrovati a questo nuovo appuntamento il primo dopo Pasqua il primo dopo lunedì dell'Angelo ci ritroviamo qui per parlare di sport come facciamo tutte le settimane prendendo anche in prestito quelli che sono gli assist della sito estenews.it dove il nostro Marco Micheletti insomma ci sta aggiornando anche su quello che avviene sui campi da tennis tra poco ne parliamo prima ti do il benvenuto ciao Marco ciao Stefano allora ecco ci ripartiamo sì dal tennis però ecco non possiamo fare a meno di dire che insomma questi giorni ci hanno raccontato come sempre avviene lo diciamo tutte le settimane davvero tante cose da un punto di vista sportivo insomma è stata questa grossa notizia del mondo dei motori per cui avevamo anticipata nella puntata di formula gp anche settimana scorsa perciò vi rimandiamo all'appuntamento di domani lo potete vedere sempre sulla playlist del canale youtube estenews.it andremo a sviluppare appunto il tema di liberty media titolare dei diritti della formula 1 che ha acquisito anche quelli della moto gp perciò ci saranno scenari tutti da interpretare decifrare per il futuro sicuramente qualcosa di importante in qualcosa di di positivo c'è sicuramente il ciclismo perché ci avviciniamo alla rubè insomma dopo il fiandre abbiamo avuto tante notizie anche del mondo delle due ruote a pedali e c'è inevitabilmente il calcio anche con sia con qualche risultato importante magari anche con qualche polemica arbitrale penso a quello che è successo a Torino e Torino mozza insomma diciamo che non se le sono di certo mandate a dire con classe ma non se le sono mandate a dire però Marco l'abbiamo anticipato parlavamo di tennis e io non posso non coinvolgerti sul tennis perché insomma tu l'hai seguito da vicino da sempre adesso stiamo davvero arrivando all'apoteosi perciò ti chiedo di Yannick Sinner innanzitutto stiamo arrivando come dici tu però all'apoteosi è sicuramente un tenista che sta facendo sognare l'Italia sta facendo sognare noi tifosi sta facendo sognare veramente tutto il paese e attraverso il trionfo di Miami diventa il primo italiano ad essere il numero due del mondo quindi un traguardo storico perché non c'era mai stato neanche i giornalisti a fare le classifiche ATP ed era stato il numero tre del mondo nessuno era mai stato ecco tra l'altro è partito anche un calcolo complicato magari ti chiedo di spiegarci un attimo come potremmo arrivare davvero a la concretizzazione di questo numero uno perché insomma adesso inizia la stagione della Terra Rossa però insomma è un po' come il calcolo che si sta facendo nel mondo del calcio quando si dice l'Inter potrebbe conquistare la seconda stella nel derby a seconda insomma di tutti questi calcoli aritmetici che portano verso il derby nel tennis Sinner come potrà arrivare a essere il numero uno eventualmente? Allora come dici tu Stefano sono dei calcoli matematici vediamo che ogni singolo titolo o ogni singolo torneo da diversi punti che si si vede dal dal titolo cioè il Master 1000 vale mille punti una TP 250-250 punti vediamo che nella race verso Torino quindi verso le Finals chi ne hanno che vedranno gli otto migliori giocatori contenersi lo scettro il migliore delle Finals a Torino lo ricordiamo qua in Italia vedremo che Sinner avrà la strada spianata comunque verso Torino che è primo attualmente nella race con Alcaraz e Medvedev che lo seguono invece vediamo un Nole di Okovic veramente in difficoltà che rimane sì che si può toccare sicuramente ho anche ribadito nel mio pezzo quei punti che sui traguardi non sono stati comprati dal supermercato mi piace la definizione è da ricordare questo di Okovic viene da un periodo negativo dopo la sfuriata e il brutto periodo che ha passato India Wells con la separazione con Ivan Isevic un storico allenatore tra l'altro vediamo qui l'articolo che tu hai fatto per restainews.it insomma a testimonianza del fatto che la copertura del mondo della racchetta lo sai fare alla grande grazie Stupro ti ringrazio per questo e tornando al discorso vediamo che Diokovic comunque deve difendere pochi punti sì stato finalista Wimbledon anche vincitore di Wimbledon però vediamo che nella race ha solamente 700 punti per ora attualmente verso Torino quindi vedo comunque verso la fine dell'anno un augurio e una speranza di vedere Yannick Sinner veramente numero uno del mondo che sarebbe davvero bello sia per il movimento tennistico che già si sta rinnovando si sta aumentando veramente però io spero davvero per l'Italia e per gli anni spero davvero un ragazzo d'oro e un ragazzo comune come noi che l'arrivo di Vito anche con Ferentini un ragazzo normale mio padre e mia madre lavorano ancora quindi credo che è davvero l'emblema della forza e del lavoro assolutamente sì tra l'altro guarda proprio live leggo un'agenzia che è arrivata per cui Pietrangeli dice Sinner è più forte parla evidentemente di se stesso ma in Davis non mi potrà superare perché? questo secondo me perché comunque Pietrangeli è riuscito a vincere la Coppa Davis da allenatore veramente un grandissimo io mi ricordo di un commento di Pietrangeli che ricordava Sinner non basteranno due vite per superarmi io credo che il signor con la Pietrangeli ha sicuramente fatto il suo tempo è stato il grande tenista fino a ieri sera però ecco non è più è un po' la diatriba generazionale perché sai poi nel computo si mettono sempre anche i titoli conquistati io mi rifaccio alla famosa frase famosa insomma è familiare per chi ha dimestichezza nel ciclismo per cui si faceva la distinzione tra il più grande e il più forte ecco il valore intrinseco della prova diciamo così anche di Valentino Rossi nei confronti di Giacomo Agostino Agostino ha vinto di più però andare a specificare qual è la portata della vittoria insomma ecco credo che possa innestarsi in questo discorso il confronto tra Pietrangeli e Sinner di Sinner però vorrei poter andare a parlare per rompere il ghiaccio con il nostro primo ospite di giornata che vedo già collegato e che adesso andrò a presentare perché lui insomma è difficile riassumere in due parole quello che rappresenta per il giornalismo italiano perché lo associamo un po' tutti alla Rai a Mediaset al giornale al Corriere della Sera alla Stampa però chiederei direttamente a lui come preferisce essere inquadrato oggi e con il sorriso davvero il benvenuto da un grande piacere a Filippo Grassia ciao Filippo sì buongiorno buongiorno a voi come mi piace essere etichettato col nome e col cognome punto e basta perfetto allora noi ci permettiamo il lusso di chiamarti per nome come tu ci indichi insomma Filippo parlavamo adesso del valore di Jannex Sinner per rompere il ghiaccio ecco questo personaggio che se vogliamo va adesso Marco Micheletti della redazione di Este News ci stava dicendo che ha già superato Pietrangeli anche a livello proprio di valore in sé ecco personalmente ti dico la mia non sono mai uno di quelli che si sottrae ai confronti li trovo un po' ipocriti quelli che dicono non si possono fare tanto i confronti tra epoche diverse secondo me insomma lo sport vive di dualismo perciò è anche bello azzardarsi nel ipotizzare quelli che possono essere i valori però un Jannex Sinner riesce a essere un personaggio di rottura nella società di adesso quanto lo sono stati i Valentino Rossi i Pantani gli Alberto Tomba perché adesso siamo poco abituati a questo modo di fare così garbato così educato quindi colpisce forse proprio per quello ma io credo che Sinner abbia delle qualità intrinseche molto particolari cioè nel senso che è il ragazzo della porta accanto scusatemi un attimo per un raffreddore incipiente e soprattutto è un ragazzo che sta portando avanti il movimento perché ha fatto capire anche ai compagni di squadra quelli della Davis ma anche ai giovani che stanno crescendo la cultura del lavoro e credo che tutti oggi abbiano migliorato implementato in quantità e qualità proprio il lavoro da fare durante gli allenamenti per poter poi ottenere dei buoni risultati nei tornei e quando si dice che Sinner sta portando avanti i movimenti io credo che lo faccia proprio sotto il profilo della cultura del lavoro e sotto questo aspetto ho avuto modo di paragonarlo a un altro grande dello sport italiano e mondiale cioè a Pietro Mennea che ha coniugato il suo talento il suo DNA però con il lavoro quello svolto a suo tempo con Carlo Vittori il suo coach di Ascoli Piceno che lo faceva allenare con gli elastici dietro una vespa e che grazie ha portato poi per tanti anni a essere il privatista mondiale ad esempio dei 200 metri c'è un nesso proprio sul piano del lavoro della volontà di migliorarsi e da parte di Pietro Mennea e da parte di Sinner poi tu parlavi se fosse lecito coniugare assieme mettere a confronto assieme che ne so Adriano Panatta Nicola Petrageli e Skinner sì è un giochino che piace a tutti come quello di dire ma chi è più forte tra Maradona Pelé Messi e pochi altri si tratta di atleti che hanno fatto grandi cose in epoche diverse e di questo bisogna tenere conto se noi oggi vediamo i filmati ad Adriano Panatta ci diciamo ma a quel livello possiamo giocare anche noi ma c'erano le racchette di legno c'era tutto un altro tipo di gioco io ad esempio mi sono cimentato in un torneo con le racchette di legno e pur avendo le portate tre dopo un quarto d'ora mi sono ritrovato con le corde rotte perché anche le palle oggi sono completamente diverse c'è da dire che ai tempi di Pietrangeli lui si era assestato al terzo posto del ranking e che però non era frutto di un calcolo matematico ma della valutazione di tre quattro giornalisti quindi era un ranking più soggettivo che oggettivo le posizioni colte invece da Adriano Panatta e da Sinner sono sicuramente oggettive ma io qualche anno fa io ascoltavo un'intervista appunto di Annike che diceva voglio diventare numero uno e ci si sta avvicinando ma io credo che a lui piaccia di più vincere i tornei piuttosto che scalare la classifica ed è un giocatore in questo momento straordinario perché riesce a colpire l'anticipo sulla palla e soprattutto con dei movimenti laterali straordinari lui è sempre al centro del campo non deve mai recuperare particolari posizioni vedremo nei prossimi tornei sulla terra rossa quanto lui vale su una superficie che forse Stefano non è quella a lui più congeniale sicuramente in questo momento è l'atleta italiano di maggior prestigio quello che ha avvicinato al tennis gente che fino a qualche mese fa di tennis non ne sapeva nulla esattamente visto che poi dice sempre in Italia che quando ci sono i campionati del mondo di calcio europeo comunque tutte le occasioni principali si diventa tutti i commissari tecnici in questo momento ho visto nei giorni scorsi con il sorriso lo dico una guida non ricordo dove averla letta la guida per i calciocchi che si apprestano a vedere le partite di Sinner insomma è vietato guardare contemporaneamente la partita del Real Madrid ecco una cosa un po' scherzosa però sicuramente simpatica questo mi fa assist Filippo per introdurre anche il tema calcistico per chiederti insomma un po' dell'attualità tu inconsapevolmente prima ma poi spiegheremo magari in finale di collegamento il perché hai sviluppato un concetto che non è passato inosservato hai parlato di cultura del lavoro parlando di Sinner è un tema che so che ti è caro a più livelli poi come dicevo lo riprenderemo però voglio domandarti la cultura del lavoro la cultura della serietà è quella che ha consentito a tuo modo di vedere a Tudor parlando di calcio ecco qui andiamo proprio a piedi pari sul mondo del pallone di inserirsi così bene così in fretta nel mondo Lazio ci sono più meriti suoi o demeriti di una Juventus che lo stiamo dicendo da qualche settimana è arrivata davvero con il fiato corto a questo finale di stagione ma ieri facevo un calcolo rispetto al Bologna che con il successo sulla Salernitana per 3 a 0 è arrivata a due punti dalla Juventus in nove turni il Bologna ha conquistato otto vittorie una sconfitta 24 punti contro i sette della vecchia signora vecchia nel senso che mai come in questo momento è piena di rughe questo significa che Tiago Motta in questo arco di tempo ha ridotto il gap della Juventus praticamente al 100% erano 19 punti di differenza oggi sono solamente due vuol dire che il Bologna in queste nove giornate ha conquistato 17 punti in più della Juventus che viaggiano una media da retrocessione perché solo le ultime tre hanno fatto meno e allora credo che Allegri e la governance della Juventus e qualche interrogativo se lo dovrebbero porre perché credo che le responsabilità sicuramente sono di Allegri per chi ha cambiato spesso e volentieri formazione non è riuscito a dare un'identità alla squadra soprattutto a centro campo però bisogna dire che ci sono anche responsabilità a Monte a Valle cioè e da parte del club che ha portato avanti nelle ultime tre campagne acquisti dei mercati onerosi senza migliorare la qualità della squadra e poi anche dei giocatori perché sono poi loro quelli che vanno in campo e questo stesso concetto allargando un po' il discorso Stefano si può anche allargare al Napoli dove i problemi non possono essere solo dei tre allenatori che sono stati triturati nell'annata a posto Spalletti perché poi in campo ci vanno quei giocatori che forse con Spalletti avevano dato più del 100% e che adesso non riescono più a ritrovarsi in questo tritacarne che è il calcio si è inserito Tudor che ha cambiato parecchie cose nella Lazio che ha agito bene io credo nell'ambito dello spogliatoio in cui ha riportato quell'entusiasmo che era venuto meno con Sarri e Sarri perché si è dimesso perché ha capito devo dire con onestà che non riusciva più a incidere sulla testa dei giocatori che poi questi non lo seguissero più un giorno lo sapremo con esattezza a me non sono d'accordo con De Laurentiis quando dice che se un allenatore si dimette lascia la barca allo sbando io credo che pochi siano quelli nel nostro paese che si dimettono dai loro ruoli e uno di questi è stato Sarri perché ha ritenuto in quel momento di non poter essere più garante di quel progetto che stava portando avanti nel Lazio fermo restando fermo restando che Lottito molto attento all'esercizio economico non è riuscito a sostituire Milinkovic Savice che era il perno di questa squadra e in tanti anni non ha trovato un vero erede immobile che prima o poi avrebbe pagato un po' l'anagrafe hai fatto benissimo sottolineare anche l'onestà intellettuale di personalità che comunque sono abituate a vivere sotto i riflettori e hanno comunque anche se vogliamo un dovere morale nei confronti di chi segue soprattutto uno sport molto popolare come il calcio in questo bisogna dare atto quando c'è necessità di sottolineare i meriti in questo caso di Sarri insomma di aver preso atto appunto di aver perso il contatto un po' con la squadra torna anche in un certo senso qui il discorso della cultura del lavoro perché hai citato il Bologna quindi anche il lavoro sotto traccia di personalità come Sartore insomma abituate magari a stare un po' più lontano dai riflettori però a lavorare con profitto ecco in tutto questo si arriva però questa sera alla prima semifinale di Coppa Italia in cui appunto Juventus e Lazio si affrontano ci sarà domani la partita tra Fiorentina e Atalanta ecco possiamo dire che la tanto bistrattata Coppa Italia rischia di diventare diciamo così un dovere morale per chi insomma dovesse fallire si troverebbe anche a dover fronteggiare una delusione mettiamola in questi termini invece un'ambizione vera e propria perché comunque è un valore anche la Coppa Nazionale per formazioni che magari hanno una situazione di classifica un po' più compromessa o comunque differente rispetto ai propositi di altissima classifica Filippo la Coppa Italia ha un suo valore intrinseco anche se rispetto al passato non porta più una squadra la vincitrice nelle Coppe europee adesso il sistema di ammissione appunto alle tre competizioni europee è cambiato e guarda caso in semifinale sono arrivate tre squadre che si aggrappano a questa Coppa per dare un significato alla stagione l'unica che ha alti orizzonti in questo momento è l'Atalanta sia per la posizione in classifica vicina alla zona Champions sia per la possibilità di fare strada nelle Coppe nella Coppa nell'Europa League e quindi sotto questo aspetto si tratta di due partite che hanno un valore importante allora partiamo da Lazio Juventus che è il remake della partita vista in campionato Tudor deve confermare che di aver portato un vento nuovo anche sotto il profilo tecnico alla Lazio dall'altra parte c'è Allegri che invece di aggrapparsi agli alibi dovrebbe ammettere in questo momento di guidare una squadra con una media da retrocessione che se non avesse fatto tanti punti all'andata con tante vittorie di Cortomuso oggi si ritroverebbe in una posizione mediana di classifica quindi per motivi diversi quasi antitetici questa è una partita che può fare da spartiacque nel destino sia di Tudor che di Allegri io ho questa impressione e la mia non vuole essere una dietrologia ma una considerazione abbastanza oggettiva e cioè che se Allegri non costasse così tanto e non avesse il contratto fino a giugno del 2025 probabilmente la Juve il tecnico l'avrebbe cambiato però tenendo conto del suo staff chiudere il contratto con un anno anticipo per la Juventus significherebbe un esborso di circa una ventina di milioni tra lo stipendio di Allegri 7 milioni e passanetti equivalente a 12 e mezzo lordi e tutti quelli del suo staff e poi c'è Fiorentina Atalanta l'altro giorno a Radio Rai ho detto che alla Fiorentina manca sempre un centesimo per fare una lira nel senso di un vecchio detto delle nostre delle nostre nonne perché continua a ripetere gli errori da sempre da quando c'è Italiano la squadra prende gol praticamente nello stesso modo sempre su contropiede con una difesa alta altissima senza una copertura adeguata possibile che in quasi tre anni Italiano non abbia capito che qualcosa non funziona poi schierare una formazione così a trazione anteriore con due soli centrocampisti dal Milan secondo me è un suicidio e anche lasciare Beltran che è il suo miglior giocatore in avanti a fare da rifinitore secondo me vuol dire non sfruttare al meglio la situazione io credo che il Tridente lì davanti dovrebbe essere composto da Gonzales Beltran e Buonaventura riportando quest'ultimo nel ruolo che lo aveva fatto grande prima l'Atalanta e poi al Milan anche per permettere alla squadra di avere un aiuto maggiore in mezzo al campo in fase di non possesso l'Atalanta in certe partite è formidabile e come diceva Guardiola il carico l'Atalanta è come andare dal dentista e questo se l'è detto ieri anche Ranieri che dopo il pareggio dovrà affrontare un trittico terribile in cui al primo appuntamento avrà proprio la squadra bergamasca che delle quattro in questo momento semifinaliste di Coppa Italia è sicuramente quella che sta meglio poi vedremo che cosa sarà di Sarri di Allegri e di scusami di Tudor di Allegri e di Italiano che sicuramente a quanto si sa dovrebbe lasciare la panchina viola probabilmente a Gilardino esattamente insomma perché proprio di queste ore insomma di questi giorni oserei dire insomma un po' la prospettiva di una rivoluzione in casa fiorentina come ne abbiamo anche raccontato nelle precedenti puntate di Bar Sport insomma tanti allenatori rischiano davvero di vivere questa staffetta con altri colleghi spesso più giovani poi bisognerà andare a dimostrare che appunto questa ventata di novità riesca davvero a portare dei sistemi innovativi piuttosto che però Filippo ma sai a proposito scusa se ti interrompo a proposito gli acquisti più o meno errati no se tu vuoi fare strada non puoi avere degli esterni come Iconè come Quamè e come Sottil che il pallone in rete non lo mettono mai e questo è un concetto basilare nel tridente devi avere dei giocatori in cui gli esterni almeno non dico tanto otto gol a stagione li debbono fare invece quelli della Fiorentina forse insieme otto gol li mettono assieme si guarda oltretutto anche qui io ricordo bene di aver avuto modo di parlare e anche di intervistare un collega fondamentalmente nella prima metà della stagione riguardo alle vicissitudini della Roma di Murigno allora che faticava soprattutto a sviluppare gioco sulle fasce dicevano appunto che mi diceva questo collega che la Roma aveva appunto questo limit e questo gap proprio sulle fasce però questa Roma che al di là appunto dell'ultimo risultato che magari è stato un po' in controtendenza so che Marco Micheletti aveva una domanda per te Filippo innanzitutto buongiorno intanto ciao Marco buona giornata le volevo chiedere abbiamo parlato appunto di allenatori giovani e abbiamo parlato se mi dà del lei non ti rispondo e abbiamo parlato anche di dell'altra sponda di Roma quindi della Lazio ma tornando al discorso e sostanzialmente alla mia domanda vediamo la Roma che ieri ha giocato con il Lecce e ha sofferto davvero tanto ha veramente subito tanti tiri in porta e credo che solamente Svilar ha salvato la porta della squadra di De Rossi ecco come vede questa prestazione della squadra capitolina e secondo lei se è solamente un un punto diciamo tirato o appunto se la Roma è solamente in un momento no in questo momento va bene Marco ti rispondo anche se continui a darmi del lei tra colleghi non vale allora la Roma mi è parte in regresso perché ha pareggiato all'ultimo secondo nella precedente trasferta di Firenze e ieri si è salvata proprio nel finale grazie alla traversa e ha rischiato tantissimo perché una squadra come quella giallorossa che pure due tre occasioni da gol anche costruite non può però subirne 5-6 dalla squadra salentina questo vuol dire che qualcosa non ha funzionato non solo in difesa ma direi soprattutto a centrocampo dove è mancata totalmente quella che un tempo si diceva la fase di interdizione non so se magari i problemi le fatiche della nazionale abbiano inciso abbiano inciso o meno però c'è stato ieri si è visto rispetto a Lecce un gap anche di natura proprio non tanto tecnica quanto proprio fisica quanto atletica e poi lì davanti ci sono stati dei giocatori primo fra tutti Lukaku che non si sono visti è come se la Roma avesse giocato in dieci qual è stato il merito di De Rossi innanzitutto di aver tra virgolette confessato tutti i giocatori e di aver riportato in prima squadra Pellegrini che io credo che di tutti i nostri uomini sia quello più universale quello più capace di giocare in più ruoli e quando lui non è al meglio ne risente anche la Roma e poi non nascondiamoci questa squadra è dipendente da Di Bala se Di Bala è in salute è una squadra sicuramente da Champions se Di Bala marca visita la squadra perde un 30% almeno del suo del suo potenziale per fortuna ha trovato in questo Svilla un portiere davvero di valore superiore secondo me a Rui Patrizio infatti De Rossi l'ha promosso stabilmente titolare è chiaro che è una squadra bisognosa nel mercato di ritocchi soprattutto lì in mezzo in mezzo al campo ecco Filippo sarebbe bello approfondire con te tante tematiche la prossima volta se ci sarà occasione e tu sarai disponibile io propongo di fare una puntata integrale con Filippo Grazia perché è bello e piacevole ma con molto con molto con molto piacere anche andando al di là del del calcio perché io sono un fan soprattutto della Formula 1 e tra l'altro di uno sport ho scritto e parlato pochissimo ma che forse è l'unico che mi virgolette costringe anche ad alzarmi alle 3 alle 4 di notte perché ritengo che la Formula 1 sia l'antesignana dell'evoluzione poi tecnologica delle macchine di serie poi come sai mi piace molto il tennis il ciclismo il rugby quindi credo sotto questo aspetto di non essere diciamo monocalcistico anche se poi la progressione al 90% ti porta a spiegare a parlare di pallone assolutamente sì infatti proprio in apertura accennavamo il fatto rimandando poi la trasmissione di domani Formula GP che abbiamo sempre qui sulla playlist di canale YouTube di Estenews andremo a parlare anche di questo caso che insomma rischia davvero di stravolgere credo però lo analizzeremo in meglio anche le prospettive con Liberty Media che ha accostato da Dorna i diritti della MotoGP insomma c'è una sinergia che sicuramente porta della programmazione porta dello sviluppo e Spelletta dovrebbe rimanere al suo posto conosce bene anche domenicali insomma c'è carne e al fuoco insomma arriviamo da Pasquetta perciò diciamo che è calzante anche la metafora però Filippo mi piacerebbe prima di perché so che anche tu insomma ti ringrazio per la disponibilità di oggi ma so che hai i minuti contati altre due cose velocissime prima di lasciarti hai accennato tu stesso alla nazionale insomma al calcio azzurro fondamentalmente la prospettiva di questi europei che ormai sono davvero dietro l'angolo ci vedono necessariamente come un outsider come un underdog nonostante ci sia il titolo da difendere o secondo te in virtù di quei pellegrini in cui parlavi comunque di quelli che sono i valori intrinsechi del calcio italiano riuscirà davvero la nazionale di Spalletti a offrire qualcosa qualche espluato secondo te e quanto speriamo anche se le prospettive non appaiono delle migliori perché nelle due amichevoli giocate negli Stati Uniti con Venezuela in particolare non è che abbia visto una grande nazionale io credo che così a pochi mesi direi addirittura a poche settimane dall'europeo Spalletti non deve fare l'errore compiuto da Mancini cioè lui in questo momento deve fare un'opera di sintesi basta con gli esperimenti basta con le prove i giocatori lui li conosce deve varare una formazione di 13 14 giocatori con 4 5 alternative punto noi non abbiamo 25 passaggiocatori da portare in nazionale purtroppo questa è la realtà anche perché nel 2006 Lipe ha vinto il mondiale quando i giocatori italiani rappresentavano il 66% di quelli che giocavano in Serie A oggi siamo sì e no al 33 34% quindi la rosa è molto più bassa però Spalletti ha la necessità di fare sintesi e di varare la nazionale noi all'europea abbiamo fatto bene innanzitutto perché abbiamo calciato molto bene dal dischetto ma anche perché Mancini aveva varato un trio di centrocampo di assoluto di assoluto valore e ci manca sempre il centravanti purtroppo in questo periodo le mamme non hanno partorito un attaccante alla Boninsegna alla Gigi Riva e compagnia cantando speriamo che Retegui faccia il suo direi che in questo momento al centrocampo noi dobbiamo giocare con Giorginio Varella e Pellegrini non mi pare che ci sia di meglio con fattesi che magari può inserirsi in un secondo momento lui alla pari di Cristante e poi lì davanti vediamo accanto a Retegui quali possono essere i giocatori che possono far meglio però lo ripeto devono essere uomini che abbastanza stabilmente entrano nel tabellino dei dei marcatori e quindi dobbiamo giocare in modo per così dire proletario badando a non prendere gol senza pensare di poter imporre il nostro gioco che nel momento non mi sembra appartenga al nostro DNA poi se Spalletti riuscirà a fare un miracolo insomma sottolineeremo la sua capacità però alla vigilia del mondiale io un particolare ottimismo in questo momento non ce l'ho speriamo che a fine campionato le cose migliorino assolutamente sì allora Filippo proprio per essere fedele alla parola che davo prima e non rubarti più tempo di quello che purtroppo hai per impegni anche superiori nostri insomma hai a disposizione mi sembra doveroso e anche bello sottolineare che nei prossimi giorni tu sarai impegnato anche in una partita molto importante perché potresti diventare anche presidente del distretto Italia del Panathron International tu che sei presidente uscente del Panathron Italia abbiamo avuto modo anche di parlarne di Parlo Milano Milano chiedo scusa in una delle precedenti puntate abbiamo avuto modo di portare testimonianza anche di quello che è stato uno dei riconoscimenti che tu hai istituito come Panathron a Milano cioè il premio Sandro Ciotti ecco se vuoi raccontarci qualcosa in chiusura di questo importante appuntamento che nei prossimi giorni ti vedrà protagonista ma io mi sono messo in gioco rispondendo a sollecitazioni che ho ricevuto dall'interno del Panathron ma anche da fuori perché ritengo che questa associazione del benemerito del CONI sia l'unica sia l'unica del appunto dello sport italiano che faccia cultura il Panathron non organizza gare ma può essere in parte lo è già ma può essere ancora di più la gamba culturale dello sport italiano perché lo si è vista anche negli ultimi tempi che cosa manca che cosa manca allo sport italiano proprio la cultura e quindi mi sono messo in gioco ritenendo che il Panathron possa avere un ruolo anche istituzionale all'interno delle leghe come lo strumento per portare i valori dell'etica del fair play sottolineando anche i pericoli del doping e del match fixing ad esempio nei confronti dei settori giovanili o dei rappresentanti delle tifoserie ma è evidente che si tratta di un'associazione che deve farsi conoscere deve avere maggiore visibilità e portare avanti una comunicazione maggiore oltre ad avere Stefano delle risorse diverse da quelle delle quote dei soci per portare avanti azioni di service importanti nei confronti delle frange più fragili e più deboli della nostra società insomma il percorso da fare è complesso però ritengo che lo si possa intraprendere con la voglia e l'obiettivo di ottenere dei buoni dei buoni risultati per questo motivo mi sono messo in gioco e vedremo quale sarà la risposta di coloro che voteranno sabato 6 a Rapallo assolutamente sì e anche in questo ultimo tuo intervento hai sottolineato aspetti molto importanti che contraddistinguono mi permetto di dire ancora di più la persona ancora prima del professionista insomma questa attenzione anche nei confronti di chi ha bisogno che insomma si riesce a leggere benissimo anche tra le righe delle parole che ci hai portato oggi a testimonianza in questo commento di sport generale e a maggior ragione noi ti facciamo davvero un grande in bocca al lupo per questa prossima elezione del Panathlon e nel frattempo ti ringraziamo davvero Filippo per essere stato qui con noi oggi a Bar Sport e come detto ci auguriamo di averti presto qui con noi di nuovo con piacere la mia è assolutamente una promessa e sono io a ringraziare te e Marco per avermi invitato la vostra trasmissione che se non erro viene vista in una quindicina di regioni se non sbaglio sì assolutamente poi l'Eter in questo caso ci aiuta ci facilita insomma poi abbiamo avuto anche dei riscontri perché devi sapere Filippo per stemperare un po' anche il congedo e anche Marco insomma parlavamo prima di giovani a un certo seguito perché vedendolo vedendolo così in video tante sue ammiratrici insomma si affollano per seguire la nostra trasmissione mi piaceva metterlo in imbarazzo così per salutarci Filippo grazie davvero di cuore di essere stato con noi grazie a voi grazie è un saluto è un saluto ai telespettatori grazie grazie alla prossima allora certamente certamente noi lo prendiamo in parola Marco perché davvero è stato un grandissimo piacere avere a disposizione insomma l'esperienza la professionalità ma anche come dicevo il saper fare di una persona ancora prima che un giornalista come Filippo Grassia insomma abbiamo toccato davvero tanti temi tanti temi che meritano davvero di approfondimenti che meritano davvero di poter sviluppare anche letture diverse da quelle da cui si è talvolta abituati ora prima di arrivare al secondo nostro ospite che credo si stia per collegare andremo a parlare di pallavolo tema che mea culpa diciamolo così abbiamo trattato un po' meno in queste settimane perché insomma abbiamo parlato di siamo partiti col ciclismo abbiamo parlato di motori rimandando all'appuntamento di domani con Formula GP lo rifacciamo abbiamo parlato di calcio inevitabilmente sappiamo che anche lui è un esperto di calcio però lo andremo a coinvolgere e lo vedo già ridere a Rudy Palermo ciao Rudy benvenuto ciao Stefano ciao Marco un saluto a tutti gli spettatori allora Rudy Palermo per chi non lo conoscesse sono davvero pochi teniamo questo tono canzonatorio no scherzo mi permette di fare questa battuta perché Rudy devi sapere che ho sottolineato il seguito di successo che ha sulla popolazione femminile Marco Micheletti che insomma è una delle colonne portanti di questa nostra trasmissione però Rudy Palermo mi piace sottolinearlo come telecronista di Dazon di Eurosport insomma collaboratore della Gazzetta dello Sport di Volleyball World perciò insomma hai tante collaborazioni ma soprattutto parlavamo di belle persone prima con Filippo Grazia che ti ha preceduto nel nostro appuntamento di oggi sicuramente ecco penso di poter dire tranquillamente che Rodolfo Palermo Rudy Palermo per tutti è una di queste Rudy allora ti vediamo ti vediamo a casa ti vediamo insomma in questo contesto diverso da quello che siamo abituati a vederti nei palazzetti dello sport dove tu giustamente parli innanzitutto di pallavolo e allora Rudy noi abbiamo aperto e poi ti lascio ti lascio il microfono abbiamo aperto il nostro collegamento accennando rispetto al tema calcistico a quelli che sono state anche delle polemiche che sono derivate dall'ultimo turno di campionato perché insomma al di là dei risultati delle big o comunque di quelle che concorrono a un risultato importante nella classifica che conta per un posizionamento in Champions League o per la salvezza c'è stato questo turno di sabato in cui Torino e Monza insomma hanno avuto modo di proseguire la partita anche al di là dei 95 minuti di gioco perché insomma le decisioni arbitrali di Aureliano non sono andate propriamente a genio alla sponda biancorossa ricordiamo un rigore concesso al Torino uno non dato al Monza e anche un'espulsione a Pessina che sempre per restare sul tema delle persone di un certo tipo di un certo modo sicuramente poco avvezzo a vedersi sventolare dei cartellini ora al di là di non entrare nel merito della cosa perché meriterebbe appunto sviluppare altre tematiche Monza qui ti voglio Monza è sicuramente una città che insieme a Milano che si presta a vincere lo scudetto alle prime due della classifica Milano Inter e Milan in Serie A che concorrono per il tricolore a questo Monza che comunque è in in corsa per un posizionamento in Europa eppure Monza dice la sua insieme a Milano anche nella palla volo Rudy lungo preambolo per farti una città ti sei allontanato da una presentazione alla seguito della quale farei fatica a dire parola ma ti ringrazio eh sì sappiamo benissimo che funziona in Italia il calcio la fa da padrona ma Monza eh inteso come consorzio monzese vero volley ha qualcosa da dire anche in ambito della pallavolo eh innanzitutto diciamo le squadre lombarde per dare un'idea nelle due semifinali di scudetto sono sono tre e il consorzio vero volley monzese che è quello che devo seguire seguo per Gazzetta principalmente una semifinalista nel campionato maschile semifinale iniziata domenica la domenica di Pasqua una semifinalista nel campionato femminile l'Allianz Milano eh di Egonu sono naturalmente squadre che puntano in alto c'è un'altra Allianz Milano che non fa parte del consorzio vero volley e che in semifinale di scudetto maschile è l'altra semifinale eh una presenza diciamo molto 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 importante San Città anche eh tu frequenti lo stadio eh Briante Lu Power Stadium scusate io sono abituato alle vecchie denominazioni eh da una scultura di Monza come città del volley effettivamente da quando il consorzio vero volley ha preso piede in zona insomma ne ha fatta distrada era il 2008 e adesso ci sono due finali due semifinali scudetto eh la squadra femminile in realtà è da due anni che raggiunge la finale scudetto e c'è anche adesso novità dell'anno anche una finale di Champions League sempre con l'Allianz Milano femminile emanazione femminile della squadra del consorzio eh vero volley sì mi fai mi 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 scordi di un certo punto di vista però so che da quelle latitudini lo dico in favore di chi non è eh abituato a transitare le parti di milanese comunque della Brianza so che c'è una rotonda in cui si certifica che Monza è la città del volley e so che soprattutto alla luce di dei recenti passaggi magari ti chiedo in due parole di riassumerci il passaggio vero volley insomma questo ne hai anche accennato questo trasmigrazione su su Milano mettiamola in questi in questi termini insomma è la città del volley è la città innanzitutto del calcio tu da che parte stai innanzitutto raccontaci ma io naturalmente sto da parte del volley e ci mancherebbe no sono vicende davvero complicate nel senso che sì da due anni la squadra femminile del consorzio del volley che è sempre stata Monza e tra l'altro fino a due o tre anni fa sponsorizzata Saugella ha fatto il passo verso Milano adesso gioca abbastanza stabilmente all'Allianz Cloud l'anno scorso meno non esistono tante realtà a livello di società che riescono a sostenere due squadre in Serie A di un campionato come quello di pallavolo ovviamente la convinenza con l'adiacente stadio di una squadra arrivata in Serie A che bene sta figurando ha creato diciamo così delle questioni da un lato delle questioni anche legate alla gestione dell'ordine pubblico di un palazzetto che il consorzio teneva sempre vivo che ha diciamo ristretto un po' gli spazi dall'altra parte l'evoluzione negli anni dal 2016 anno in cui la squadra femminile raggiunse il massimo campionato la Serie A1 nel campionato ha fatto sì che questa squadra sia cresciuta oggi diciamo la base della nazionale femminile italiana gioca per l'Allianz Milano e questa cosa anche a livello di aspetti economici sponsorizzazioni il richiamo di un palazzetto più grande magari sempre disponibile senza alternare calendari col mondo del calcio ha aiutato questa migrazione che è avvenuta gradualmente nell'ultimo anno e mezzo sostanzialmente ecco diciamo che questa operazione possiamo dare una sorta già di primo bilancio rispetto a quella che è stata la fattività proprio concreta di un passaggio più tanto che immediato perché comunque devi cambiare non soltanto la location mettiamola in questi termini ma anche la fanbase comunque postare i tifosi che erano comunque abituati ad arrivare dall'Abrianza non soltanto da Monza al palazzetto monzese di rottare su Milano dove anche qui è giusto sottolinearlo a beneficio di chi magari probabilmente ha poca dimestichezza col territorio però c'è un distingue c'è una orgogliosa differenziazione tra Monza e Milano perciò non è un qualcosa di immediato però ecco ti chiedo a distanza di questo tempo la scelta del presidente Alessandro Marzari è stata una scelta positiva è una scelta che ancora ha da accogliere dei risultati immagino io innanzitutto sportivi o comunque il cammino è già arrivato a compimento a tuo modo di vedere io non so se esisterà un momento in cui un cammino del genere possa arrivare a compimento senza dubbio se guardiamo meri numeri l'Alliance Cloud impianto più capiente accoglie probabilmente anzi sicuramente direi numeri alla mano un numero di spettatori superiore e quello che tu hai chiamato fanbase zoccolo duro cioè i tifosi abituali hanno continuato magari con qualche fatica in più però diciamo i tifosi quelli più legati naturalmente a seguire la squadra ecco quindi io non so se questa cosa questo passaggio potrà avere un compimento diciamo secondo me ci sono tante implicazioni logistiche al di là di quelle commerciali che hanno spinto verso quella direzione io credo nei fatti mi sembra abbastanza così che comunque un cuore monzese dove il consorzio è nato sia rimasto e non so se questo passaggio avrà compimento certo che se hai una squadra che oltre a cominciare a primeggiare in Europa e in Italia abbiamo detto due finali scudetto consecutive e sabato prossimo o venica prossima inizierà la semifinale con Scandicci per puntare alla terza poi arriva anche un un riconoscimento in campo europeo perché dopo una Coppa Challenge vinta nel 19 una Coppa Challenge vinta nel 21 e due coppe inferiori a livello europeo nel Palavolo adesso arriva anche una finale di Champions League che si giocherà ad Antalya il 5 maggio in Turchia beh questa cosa mixata con abbiamo detto a dimensione estremamente internazionale delle giocatrici anche purché italiane della squadra magari avrà un cassa di risonanza di cui effetti magari li vedremo anche più avanti Prudì vedevamo durante il tuo intervento anche delle immagini rispetto agli articoli pubblicati su stnews.it abbiamo visto anche l'immagine di Paolo Egonu da qui riparto perché Marco Micheletti di Stnews ha delle domande per te Prudì io ti volevo chiedere partendo appunto da Paolo Egonu come ha enunciato Stefano ti volevo chiedere si parla dal vivo dato che comunque lo segui da tanti anni la pallavolo come è vedere un professionista e una vera e propria protagonista del vero volley dal vivo e la mia seconda domanda invece era puntata sempre sulla pallavolo ma a livello nazionale come vedi la nazionale italiana dato che oramai stiamo avvicinando a Parigi a Parigi 2024 quindi alle Olimpiadi come vedi la nazionale anche se parte sì da favorita ma non è ancora qualificata alle Olimpiadi appunto esatto la seconda domanda è quella decisamente più insidiosa teniamola da parte com'è da vedere dal vivo parli diciamo il discorso pallavolo o una giocatrice come Egonu cui erano riferiti gli articoli credo siano cose molto diverse io Paola Egonu ho cominciato a commentarla negli anni in cui lei giocava in A2 tra l'altro l'anno in cui poi l'allora Monza è stata promossa nel Club Italia esatto nel Club Italia e ti dico che fin da subito fin da subito ho cominciato a definirla anche in telecronaca un gradino evolutivo del gioco secondo me dal punto di vista fisico geometrico dite quello che volete esisterà un prima e un dopo è qualcosa che è impressionato fin da subito è una campionessa che incide non si risponde a una domanda con una domanda ma se vi chiedo quanti campioni ricordate che hanno raggiunto cinque finali europee con quattro squadre differenti quanti ve ne vengono in mente secondo me se contate le squadre differenti fate davvero fatica un po' sbaglio assoluto e so dove vuoi andare a parare per questo ti dico che effettivamente soprattutto è giusto sottolineare quello che tu dici insomma soprattutto nel volley femminile diciamo che la personalità forte di una giocatrice che anche i casi di cronaca recente ci hanno portato a parlare di Paolo Gonu anche al di fuori del campo però diciamo che l'impatto siamo partiti raccontando di Sinner della sua valenza al di là del campo da tennis ecco io credo che anche parlare di una Paolo Gonu riesca a portare il discorso a travaricare il campo sportivo per uscire anche se vogliamo per vicende magari sicuramente differenti ecco però effettivamente sì nell'immaginario collettivo la pallavolo soprattutto per magari Marco un'altra generazione però insomma la generazione dei fenomeni di Velasco è quella che un po' nel sentire comune chi la pallavolo magari non la maneggia quotidianamente è un po' quello diciamo il riferimento però nella pallavolo femminile tu dici c'è un prima e un dopo un Paolo Gonu ti faccio concludere la premessa che tu stavi sottolineando perché è sicuramente importante no no esatto quindi lei dicevamo lei è una campionessa con un talento immenso e secondo me c'è ancora una parte inespressa forse il simbolo di quanto è inespresso nel mondo della pallavolo che è uno sport innanzitutto lo sport al femminile più praticato dovremmo essere in Italia sui 330.000 350.000 tesserati tre quarti delle quali donne non esiste non esiste credo una federazione che possa vantare numeri in rosa di questo livello e Stefano tu hai citato la generazione dei fenomeni quindi l'avvento di Velasco che ha dato il via al movimento pallavolistico in Italia e sostanzialmente siamo in altri vertici con la parte femminile siamo un po' più indietro ma Paola Egono e le altre che vanno a comporre questa generazione possono essere diciamo i componenti che vanno un po' a colmare questo gap e che possono definitivamente far esplodere in termini di visibilità di partecipazione lo sport questo sport la pallavolo non è una cosa scontata qui abbiamo toccato in te solo un piano tecnico avete fatto bene prima a ricordare anche gli aspetti meno mediatici del personaggio Egonu ovviamente stiamo parlando di lei perché ha una mediaticità tale che non ha altri risconti nel mondo della pallavolo mondiale oggettivamente fuori dal campo sappiamo lei è una giocatrice che non non rinuncia a prendersi le responsabilità non l'ha mai fatto in passato non sempre è andato bene quando è stata si è fatta sentire fuori dal campo di pallavolo quelle sono sempre diciamo delle bucce di banana magari certe domande a sfondo anche razziale l'Italia è un paese razzista in una conferenza stampa di Sanremo non è proprio una domanda facile diciamo così ed è inevitabile che poi faccia parlare soprattutto se poi c'è qualche generale dell'esercito della Repubblica italiana che la prende esempio di non italianità e magari poi il sottetto generale vuole candidarsi ad elezioni politiche però questo è un altro aspetto fa parte del personaggio è tremendamente importante perché la mediaticità e la visibilità che si porta dietro Paolo Egono è una cosa che è un tesoro per questo movimento io però parlo di quello che fa in campo è una giocatrice che può decidere spostare equilibri lo sta già facendo ribadisco 5 finali di Champions con 4 squadre differenti la quinta finale deve giocarla 3 vinte una persa in finale ha qualcosa come 36,5 punti di media nelle 4 finali di Champions 36 punti in una partita di pallavolo è difficilissimo farle ora si fa davvero fatica in stagione ad andare più volte sopra i 30 punti lei tiene una media di 36 nella massima nella partita più difficile a livello continentale se vogliamo è anche poco rispetto ai 45 che ha messo a segno in una semifinale mondiale quando aveva 20 anni contro la Cina padrona di casa questo è il livello della della giocatrice la pallavolo è uno sport di squadra per per eccellenza quindi non una giocatrice esposta agli equilibri ma non può farlo in tutto e per tutto Milano l'ha giunta quest'anno al suo roster per fare quel saltino in più in avanti dopo due finali scudetto perse con Conegliano l'avversario è sempre quella però Rudy io tornerei visto che siamo partiti parlando del percorso del vero volley che sarebbe estremamente riduttivo nel ricondurlo esclusivamente a Paolo Egonu Marco ti faceva una domanda io riprendo anche in questo caso Sponda perché come c'è una giocatrice anche dal punto di vista iconico se vogliamo proprio tu parlavi di immediaticità probabilmente più vicina anche al grande pubblico e che ha sul gomito un tatuaggio con 5 cerchi ovviamente parlo di Alessia Orro e ti chiedo per ricondurre l'argomento rispetto alla domanda che faceva Marco ecco le potenzialità dell'Italia verso Parigi potenzialità dell'Italia le potenzialità dell'Italia credo da tre anni siano quelle di puntare a vincere qualsiasi competizione in cui partecipino il dato di fatto però è che ci troviamo dopo l'ultima estate azzurra che è stata senza dubbio la più tribolata degli ultimi anni senza aver vinto niente per la prima volta una medaglia di legno agli europei con tutto il rispetto c'erano probabilmente due avversarie e siamo arrivati quarti e una qualificazione olimpica da conquistare ora il problema della qualificazione olimpica vale tra l'altro anche per i maschi anche se per altri motivi non è tanto a rischio per i regolamenti ci sono ancora cinque posti da conquistare bisognerà essere nel le qualificazioni saranno fatte soprattutto su base geografica quindi sostanzialmente c'è un posto da riservare alle africane poi per il resto in base al ranking internazionale sia nel ranking maschile sia nel ranking femminile l'Italia è al primo posto tra le non qualificate quindi al momento la situazione è relativamente tranquilla importante dire al momento perché il ranking che conterà sarà quello di sostanzialmente fine giugno quando si sarà giocato una VNL una sessione di VNL torneo internazionale tra le nazioni c'è tutte le stati perfetto il problema non è neanche conservare a livello di risultati quella posizione dopo quel torneo le potenzialità come ho detto partito dal presupposto l'Italia femminile parte per vincere qualsiasi torneo in cui può partecipare ok però il problema è che ovviamente dover partecipare a una competizione in cui comunque non puoi rilassarti non puoi perdere punti non puoi fare sconfitte diciamo raccogliere sconfitte troppo in attese ti va a condizionare nella preparazione la VNL comincia a metà maggio sostanzialmente una settimana dopo la finale di Champions League quindi la chiusura della stagione dei club quindi l'Italia sia maschile che femminile dovrà partecipare subito con una squadra forte a questo torneo per qualificare il percorso per il percorso olimpico e poi finire l'estate col percorso olimpico l'Olimpiade è una diciamo una manifestazione con tante gare in un periodo ristretto questa cosa alla lunga può pesare quanto può pesare questo è difficile dirlo tra l'altro tra l'altro curiosamente nel 2000 l'Olimpiade del 2021 con Italia già qualificata l'allora CT Davide Mazzanti fece una scelta diversa non partecipiamo con le forti alla VNL prepariamo solo per le Olimpiadi vuol dire che iniziò le Olimpiadi senza neanche un amichevole sostanzialmente fece un paio di amichevoli ma la squadra senza troppo ritmo gara non andò benissimo fuori ai quarti per la squadra maschile per la squadra maschile aggiungo una postilla la situazione è un po' diversa secondo me anche lì si parte per vincere per andare a medaglia in qualsiasi contesto c'è più equilibrio oggettivamente cioè siamo tra le più forti ma le papabili sono comunque forti anche lì però c'è un gruppo un po' più consolidato l'estate scorsa la squadra arrivò molto stanca dopo l'estate sostanzialmente allora Rudy ti riprendo parola perché insomma siamo quasi in chiusura io prima del collegamento ho spoilerato a Marco una delle tue passioni perciò abbiamo parlato sotto rete però io ti porto in chiusura sotto canestro perché Marco Michele ti ha una domanda per te abbiamo completamente sport appunto come diceva Stefano quindi parlando di basket Rudy volevo parlare appunto di attualità e soprattutto parlare della rimonta storica che ha fatto Pistoia contro la Virtus Bologna cosa ne pensi di questa vittoria sorpresa di Pistoia e come vedi sia Bologna in Eurolega e come vedi sul campionato Bologna ha iniziato una stagione nella depressione più totale l'abbandono un po' traumatico di Sergio Scariolo dopo anni davvero positivi e la chiamata di Luca Banchi che il mondo della paracanestro italiana aveva riscoperto ai mondiali regioni mondiali quest'anno insomma alla guida della Lettonia dove aveva fatto benissimo beh allora lasciando stare le singole partite secondo me le squadre che partecipano all'Eurolega hanno un diciamo un andamento in termini di rendimento che può essere difficilmente valutato ai termini nei termini come siamo abituati a fare giocano davvero troppo è difficile pensare di competere su due fronti così impegnativi non è la singola sconfitta mi sembra che Bologna stia facendo però lo dimostra appunto il cammino in Eurolega dove è qualificata nei play-in un bel camminino e soprattutto alla fine si ritrova davanti alla grande antagonista Milano che è un po' l'obiettivo questo dualismo secondo me fa benissimo al mondo della paracanestro le prospettive che vedo per una squadra che Banchi riesce a far giocare comunque con entusiasmo un po' sopra il suo livello sono buone è un po' il problema opposto che a Milano che forse è una squadra costruita per competere di più ma quest'anno ha girato tutto meno detto questo al di là della classifica del campionato al momento per il titolo si andrà a parare sempre da quelle parti allora Rudy grazie anche di questo spaccato che ci hai lasciato rispetto al mondo cestistico noi ti ringraziamo dobbiamo chiudere perché siamo davvero in ritardo però grazie davvero di essere stato con noi Rodolfo Palermo di Dasone Eurosport Gazzetta dello Sport Volleyball World speriamo di riaverti presto qui con noi per me sarebbe un grande piacere un grande ringraziamento a voi Stefano e Marco naturalmente a tutti gli spettatori magari in vista delle Olimpiadi perché no assolutamente sì allora grazie Rudy grazie davvero Marco andiamo in chiudere perché abbiamo sforato di qualche minuto come sempre classica domanda di rito per chiudere cosa aspettarci questa settimana cosa leggeremo sul sito astenews.it dalla firma di Marco Michele allora ovviamente vedremo il tennis protagonista ancora una volta e vedremo tanti italiani impegnati nel primo appuntamento sulla Terra Rossa vedremo appunto Marrakesh quindi in Maroc protagonisti italiani ritorna Matteo Berrettini dopo la sconfitta con anche vari problemi intestinali a Miami e vediamo anche comunque Gigante Pognini lo stesso Sonego che viene da dal dal momento no di Miami di India West e ha voluto fare una scelta drastica cioè cambiare dopo 25 anni il proprio allenatore cioè Gipo Arbino un grandissimo del tennis italiano che sta appunto cercando e sta scandagliando i vari allenatori quindi io credo che il tennis italiano anche questa settimana sarà protagonista Marrakesh e ci auguriamo e allora ti leggeremo molto volentieri su westernews.it grazie per essere stati con noi puntata molto interessante Filippo Grassia Rodolfo Palermo Marco Micheletti ci rivediamo settimana prossima sempre qui a Barsport ciao